Il Comune di Agropoli, retto dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha sviluppato una manifestazione di interesse per l'acquisizione e la patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di 12 locali, situati tra Via Piano delle Pere, Via Isca Longa e Moio Alto, tra vari appartamenti, terreni agricoli e box garage. L'ente, fa sapere Palazzo di Città, ha interesse all'acquisizione e alla patrimonio indisponibile dei suddetti cespiti, siti nel territorio comunale in quanto intende allocare al suo interno, compatibilmente con le destinazioni catastali, servizi di carattere sociali come casa accoglienza anziani, centro accoglienza minori a rischio, casa senza fissa dimora, sportelli ascolto, sezione osservatorio italiano, informazioni anticrimine e servizi di questo tipo, gestiti direttamente dal Comune, eventualmente anche in esternalizzazione ad associazioni, finalizzate a facilitare l'integrazione e a migliorare le interrelazioni tra istituzioni nel rispetto delle indennità culturali. Più precisamente intende realizzare servizi tesi al contrasto delle situazioni a rischio di immarginazione sociale di minori e servizi di accompagnamento anche di persone senza fissa dimora. Pertanto il sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente, è stato autorizzato a presentare richiesta di manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Comune di Agropoli sarà dotato finanziariamente delle somme necessarie a garantire la sostenibilità nel tempo della progettualità individuata per la gestione dei beni confiscati, nonché per il fattivo utilizzo degli stessi, entro un anno dalla loro consegna, in ragione dell'attuale stato di manutenzione, ha fatto sapere inoltre Palazzo di Città. Questo tema del recupero dei beni confiscati e della criminalità organizzata è stato negli anni attenzionato dalle amministrazioni comunali che si sono succedute ad Agropoli. L'utilizzo dei beni confiscati è una grande opportunità per gli enti locali che ricevono immobili di grande prestigio per finalità sociali rilevanti. Ad Agropoli uno degli esempi da questo punto di vista è senz'altro la casa alloggio dolce di sveglio. Lo scorso 23 maggio, all'interno del giardino della struttura, sono stati intitolati degli agrumeti in memoria delle vittime delle mafie.